Creatività ma anche ricerca e rispetto delle tradizioni orafe. La prima giornata di Oro Arezzo si è conclusa con uno degli eventi più attesi dai maestri artigiani del settore dell'oreficeria, Premier. Premier è da 23 anni l'evento clou di Oro Arezzo, un contest che coinvolge le migliori aziende della gioielleria, oreficeria e argenteria italiane. Un momento di grande visibilità per gli espositori partecipanti. L'edizione di quest'anno si è arricchita di una grande novità. Grazie alla collaborazione con Vogue e Gioiello, Premier è stata caratterizzata da un tema che accomuni le creazioni presentate, ovvero il tema del bianco e nero. Voglio che il premio di ritiri il mio collaboratore che l'ha disegnato e realizzato. A me pare molto bello, specialmente a vederlo dal vivo è molto bello. Lo ringrazio e ringrazio a voi che gli fate le manzioni. Il primo premio è Graziella Gruvo. Vorrei litigare questo premio invece a mia nonna Graziella che è l'anima e la fondatrice dell'azienda e tutt'oggi occorre l'anima. Grazie. 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 Maria Sole Joielli. Grazie. Grazie.